Abbiamo organizzato dei seminari che sono un po' propedeutici a quella che poi sarà dal terzo e quattro anno della formazione e la vera e propria supervisione clinica. Però già al primo e al secondo anno offriamo degli spazi di riflessione ai ragazzi e agli allievi sulla clinica, quindi anche attraverso riflessioni su dei casi clinici, ma soprattutto entriamo un pochino a fare delle riflessioni sul setting terapeutico, anche sulle difficoltà del setting terapeutico, i sentimenti consotrasferali e quelle che sono le prime riflessioni, considerazioni sulla complessità del lavoro terapeutico, quello che poi è un lavoro di base, di preparazione a quella che poi diventerà la supervisione vera e propria al terzo e quarto anno e questo ci sembra una, diciamo non una novità, però diciamo uno spunto importante per i ragazzi che già cominciano al primo anno ad entrare nella stanza della terapia.